Mi sono immedesimata in questo clima che poi ho trovato, un clima di folclore, un clima di divertimento e effettivamente è stato proprio come me lo immaginavo. Diciamo che il set è stato un momento veramente indimenticabile. Io mi sento a mio agio in questo lavoro, poiché sia appunto cinema o televisione sono due modalità diverse, però alla fine fai sempre lo stesso lavoro, quindi non mi sento di spingerlo in una direzione. Spero che la mia carriera prenda comunque o continui quel percorso che sto facendo adesso. Sicuramente se penso al Natale penso indubbiamente alla mia infanzia, perché nell'infanzia si vive tutto con un'energia maggiore, con qualcosa di inaspettato. I miei Natali giù in Sicilia erano abbastanza di condivisione, perché vivevamo in un paese piccolo, quindi si mangiava abbastanza tutti a casa con tantissimi parenti, però poi si andava giù nella piazza e si condivideva questo grandissimo fuoco con tutti i vicini di casa, tutti i parenti degli altri vicini di casa, quindi eravamo veramente tantissime persone e lì si portavano i dolci, chiunque aveva preparato un dolce lo portava e lo condividevamo. E quello era un momento per me indimenticabile, perché appunto eravamo sotto questo cielo stellato, questo camino, comunque in Sicilia non fa mai tantissimo freddo, quindi potevamo stare abbastanza tranquilli, però era un momento, mi ricordo, di divertimento insieme agli altri bambini, di libertà. Ecco, se mi auguro di poter far vivere queste emozioni anche alla mia bambina.